Ricordo il giorno che feci queste riprese. Era il 7 aprile del 1979. Padova sembrava vivere il quotidiano di sempre, ma quel 7 aprile del 79 era destinato a restare nella storia. Era passato un anno dall'omicidio di Aldo Moro e quel giorno Pietro Calogero, sostituto procuratore di Padova, chiede l'arresto dei maggiori leader di autonomia operaria, tra cui Tony Negri, insieme ad altri colleghi e tecnici della Facoltà di Scienze Politiche di Padova, con l'accusa di essere uno dei nuclei dirigenti di tutta la lotta armata per come si era sviluppata nel corso degli anni 70. Anche se molte delle accuse non verranno accertate giudizialmente e molti degli arrestati verranno assolti, quella pista investigativa, secondo il Partito Comunista e gran parte delle forze parlamentari, sarebbe stata decisiva per bloccare un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Il magistrato mi aveva interrogato su dettagli di fatti accaduti molti anni prima, nei mesi di fuoco della rivolta armata. Il dialogare fitto con quell'uomo chino sul suo lavoro mi aveva rammentato la vita di quegli anni. Molti protagonisti di questa storia sono morti, sono o sono stati in prigione o sono fuggiti. I pochi che incontro spesso mi salutano appena, quasi volessero cancellare un tempo che rifiutano. E sono lontani, chissà dove. Dici, rimasi per settimane in quella facoltà, ma tutto iniziò quel 16 febbraio 1977. Quindi dal 77 all'80, che poi sono gli anni di piombo, no? Sì, certo. Poi dall'80 all'83 il livello di fuoco degli attentati, eccetera, cara progressivamente. Finché si spegne. E poi si spegne. E poi si spegne.